Musica Sabato 25 febbraio, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione, in regia c'è Nicola Passarelli. In primo piano la politica, sono passati esattamente quattro anni, dal 24 e 25 febbraio 2013, data delle ultime elezioni regionali. In quella circostanza il Molise elesse Paolo Di Laura Frattura alla presidenza della regione. Più che negativo il bilancio impietoso di una stagione che ha messo in ginocchio sanità, imprese, lavoratori e famiglie. Tra un anno si vota e sono già iniziate le grandi manovre. All'interno del centro-sinistra si sta lavorando per la scelta del nuovo candidato. Ruta e Leva già lavorano per le primarie dopo l'estate. Il servizio è di Pasquale Di Bello. Esattamente quattro anni fa, il 24 e il 25 febbraio del 2013, i molisani decisero di affidare il governo della propria regione a Paolo Di Laura Frattura. Uscito da una militanza nel centro-destra con un passato in Forza Italia, Frattura divenne il paladino del centro-sinistra molisano. Da Berlusconi a Ceghevara il passo fu breve. E fallito un primo tentativo nell'ottobre del 2011, riuscì due anni dopo a conseguire l'elezione a presidente della regione. A votarlo, nella successiva tornata, resasi necessaria a seguito dell'annullamento delle precedenti elezioni, furono 86.000 elettori con una percentuale del 44,7%, numeri che oggi Frattura non riuscirebbe a vedere nemmeno con un radiotelescopio. Il compleanno istituzionale, si fa per dire, sarà sfuggito ai più, non essendo il tema particolarmente adatto ai festeggiamenti, se non a quelli del diretto interessato. Tuttavia è importante ricordare quella data, poiché tra un anno esatto, salvo sorprese, si tornerà a votare e le ricorrenze, se non altro, servono a fare un bilancio di quello che è stato e di quello che sarà. Il Molise di tutti, quello promesso da Frattura in campagna elettorale, si è trasformato per i cittadini nel Molise di nessuno, governato da una lobby personalissima che il presidente della regione ha stretto attorno a sé, attingendo a piene mani tra gli ex collaboratori delle sue passate occupazioni, specie imprenditoriali, e i nuovi Apache che lo hanno incoronato grande capo. Il Molise di tutti, diventato il Molise di nessuno attraverso il governo di questa lobby di collaboratori Apache, è oggi una terra distrutta nei suoi due pilastri fondamentali, lavoro e sanità. Due comparti, il cui terminale è uno solo, la gente, i cittadini, il popolo senza alcun paracadute ed estraneo alle logiche che muovono le lobby, i gruppi di potere, le camarille o più semplicemente gli Apache disponibili a dare l'assalto ad ogni diligenza. Ma la ricreazione è finita, nel centro-sinistra sono già iniziate le grandi manovre per sostituire Frattura ed è partito un lavoro nemmeno tanto scuro e sotterraneo che ha come terminali i parlamentari Danilo Leva e Roberto Ruta che, secondo indiscrezioni fondatissime, stanno già lavorando ad una strategia d'uscita che porti il centro-sinistra fuori dalle secche nelle quali Frattura lo ha cacciato. L'idea è quella di indire elezioni primarie subito dopo l'estate per scegliere il nuovo candidato alla presidenza della regione. Un percorso questo da verificare a stretto giro, il tempo sta scadendo e tra un anno esatto si voterà. L'unica cosa certa, parafrasando Lucio Dalla, è che quest'anno, tra un anno passerà, il Molise si sta già preparando e tra un anno Frattura non ci sarà. Missione popolare dei frati del convento dei Cappuccini di Isernia. Con l'arrivo nel capoluogo pentro della reliquia del cuore di San Pio da Pietrelcina, la parrocchia dei Cappuccini ha preparato la diffusione tra le famiglie del messaggio ecumenico del Santo. Di particolari ce li dice Enzo Di Gaetano in questo servizio. Il cuore di San Pio da Pietrelcina a Isernia per il giubileo della parrocchia del Sacro Cuore è uno degli avvenimenti più importanti nella storia della parrocchia, ma anche di tutto il capoluogo pentro. Una reliquia di San Pio da Pietrelcina per la precisione del cuore sarà ospite del convento dei Cappuccini dal 4 al 18 marzo prossimi. A darne l'annuncio il parroco Fran Nazario Vasciarelli, che ha anche comunicato che saranno due gli eventi che caratterizzeranno il giubileo per i 60 anni della parrocchia. Oltre alla presenza della reliquia del Santo del Gargano, in contemporanea alla comunità del Sacro Cuore vivrà una missione popolare. La missione vedrà la presenza costante per due settimane di suore e frati provenienti da fuori città e sarà un segnale forte per la comunità. Appuntamenti nelle scuole, mentre di sera i missionari avranno incontri di riflessione con i fedeli, casa per casa, si tratterà di un annuncio intenso del Vangelo, seguendo l'Alto Magistero di Papa Francesco. La missione prenderà il via ufficialmente sabato 4 marzo alle 18.30, quando sarà il Vescovo Cibotti a dare il mandato ai religiosi durante una solenne concelebrazione. Prima in piazza stazione sarà accolto il reliquiario con il cuore di Padre Pio, che sarà portato a Isernia da San Giovanni Rotondo dal ministro provinciale dei padri Cappuccini, l'Isernino fra Francesco Colacelli. Anche questo è un evento eccezionale se si pensa che la reliquia in passato ha lasciato la cittadina pugliese solo per andare a Pietrelcina e oltreoceano a Boston e Filaleffia. Sosterà nella nostra chiesa, ha affermato Fran Nazario, ma faremo in modo che possa portare conforto anche agli ammalati dell'ospedale. Poi sabato 18 marzo, dopo la solenne liturgia eucaristica delle 18.30, con una fiaccolata verrà traslata nella cattedrale in cui sosterrà fino a domenica, quando in serata, dopo la concelebrazione, ripartirà alla volta di San Giovanni Rotondo. Tutto pronto per la 42esima edizione del Carnevale di Larino, dove sono attesi numerosi visitatori anche da fuori regione. Saranno sei i carri che oggi e domani pomeriggio sfileranno lungo le vie del centro Frentano, mentre domenica mattina si potranno visitare anche gli interni delle macchine allegoriche accompagnati dai carristi. L'iniziativa segue mesi di preparativi che hanno impegnato i gruppi per costruire veri e propri giganti di cartapesta. Il corteo sarà animato dai balletti, tra singolari coreografie, musica e tanto divertimento. Quest'anno ci sarà anche un concorso che premierà le maschere più belle. Visite guidate al Museo Civico e alla mostra permanente del Carnevale. La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Larino, che ha migliorato e potenziato le misure di sicurezza. Bene, con questa notizia ci fermiamo, almeno per quanto riguarda la nostra informazione. Adesso la rassegna stampa. C'è la politica in primo piano sul giornale del Molise.it. A quattro anni esatti dall'elezione, il centro-sinistra è pronto a disarcionare frattura, ruta e leva verso le primarie per la scelta del candidato, l'articolo è di Pasquale Di Bello. Adesso la cronaca da Casacalenda. Frana travolge un distributore di carburante, strada per la bifernina a rischio. Torniamo in consiglio regionale. Scarabbeo dice il Consiglio di Stato boccia frattura. Si parla di sanità, ma non si può fare di tutta un'erba, un fascio. A Termoli adesso droga che arriva dal mare. Ancora un maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza. Mezzo quintale di marijuana. Domiciliari nel Venafrano per il figlio del boss Francesco Sandokan Schiavone. Restiamo di Sernia. Detenzione e spaccio due giovani fermati con 100 grammi di marijuana. Altre notizie. Molise, il Consiglio dei Ministri non impugna la legge anti-azzardo. Adesso ancora siamo sulla home del giornale molise.it. Cittadini in campo per rilanciare la cultura e l'economia di Sernia. E sempre da Sernia, Rotary Foundation, domenica esibizione della fanfara dei carabinieri. Vediamo ancora, siamo sempre sulla home del giornale molise.it. Ospedale di Venafro, il Consiglio di Stato boccia il ricorso della regione. Su questo c'è anche l'intervento da parte del consigliere Massimiliano Scarabbeo. Aperture diverse per i quotidiani regionali. Iniziamo con primo piano, leva, sfida, frattura. Dunque la politica, primaria di coalizione e senza patriciello. L'onorevole scissionista apre il fronte in Molise. Qui comanda l'eurodeputato di Venafro. Con me, dice, era un alleato senza poltrone. E a chi rimane, chiede, serve stare nel PD per fare l'uncinetto. Niente sconti, dunque. Smantellata la sanità pubblica, umiliati i lavoratori della gamma, dell'ITR e dello zuccherificio. Andiamo in alto, centri per l'impiego, chiusa l'inchiesta tra gli indagati De Matteis e Micone. Oltre all'ex presidente della provincia e al consigliere regionale, nel fascicolo aperto dalla procura di Campobasso sono iscritte altre 11 persone. Truffa, abuso d'ufficio e falso tra i reati contestati. A centro pagina, avvertenza SEAC. Siamo a Campobasso, battaglia vinta per questo. Per ora, sospesi gli otto licenziamenti. La regione si è impegnata a mettere più soldi per il trasporto pubblico. Ieri intanto lo sciopero di quattro ore degli autisti. Alcuni richiami, l'ula a spalla, il box in alto, termoli recuperati dalla finanza a largo delle tremiti, 50 kg di marijuana. Clan del Casalesi, scarcerato dal riesame, il figlio di Sandokan ai domiciliari a Macchia di Sernia, scrive Primo Piano. Ancora cronaca, notizia che arriva da Montesilvano, gestiva una spa a luci rosse, coppia di Agnone arrestata dai carabinieri. In basso da Montenero alla pista di Milli Carlucci, Sara di Vaira, balla con Martin Castro Giovanni, stasera il debutto sul Rai 1. Anche qui da Casa Calenda, distributore di carburanti, vedete anche la foto, inghiottito da una frana. Il calcio, l'appello per il Campobasso, parla un'icona, rosso-blu di Rissio, dice alla politica, fa comodo un lupo mediocre. L'ex bandiera, il calcio, crea personaggi e consensi. Calcio di eccellenza, il Macchia va a piedi monte, i Sernia Termoli sfida da altri tempi per il calcio a 5, e Morisano in campo nel pomeriggio. Coppa per l'Isernia, sorteggio da brividi. Passiamo adesso al quotidiano. In apertura, la vertenza trasporti, congelati i licenziamenti SEAC. Decisiva la giornata di ieri, prima lo sciopero e poi la promessa di frattura e nagni, pronti a ridefinire i tagli delle risorse. Adesso la viabilità, viabilità e smottamenti, concessioni per 26 comuni. Pronte le nuove concessioni, appunto, per 26 comuni, le firme lunedì. E a proposito di smottamenti, sulla provinciale che porta alla Bifernina, una frana, inghiotte, un'area di servizio. Notizie sotto la testata, Camorra, il figlio di Sandocan, boss dei Casalesi, finisce domiciliari a Venafro. Abbiamo visto, sono due le località. Sul primo piano, Macchia di Sernia, il quadriano scrive Venafro. Da Montesilvano, massaggi a luci rosse, arrestati due agnonesi. Caso Cucchi, sospesi dal servizio, tre carabinieri, uno di loro e originario di Sesto Campano. Andiamo in basso, vertenza GAM, in prefettura, ancora un nulla di fatto. I sindacati, assemblea permanente. Anche qui la notizia di cronaca, che riguarda la Guardia di Finanza, che recupera in mare 50 kg di marijuana. Intanto ieri ad Affari Tuoi, Giulia, vince 50 mila euro di Castellone di Boiano, dunque è tornata a casa con 50 mila euro. Calcio di Serie D, lupi a caccia di conferme per l'agnone, prova di maturità. In eccellenza, tre anticipi danno il via alla settima giornata di ritorno. Passiamo al Free Press, la gazzetta del Molise, trasporto urbano, messa una pezza, scrive la nuova gazzetta molisana. La Regione si impegna a rivedere i tagli a fronte di una razionalizzazione del servizio, scongiurati i licenziamenti alla SEAC. In basso, sindacale, il COSI, perché è un sindacato della Polizia, i presidi di sicurezza vanno rafforzati, non tagliati, si parla in particolare della Polizia stradale di Ilarino. Sanità sull'ospedale di Venafro, la bocciatura è per frattura. C'è l'intervento del consigliere Massimiliano Scarabeo. Nella rubrica l'ardire di saluppo, sanità, l'assurdo del taglio dei budget. L'Oscar oggi va all'assessore comunale Salvatore Colagiovanni di Campobasso, invece il tapiro alla segretaria regionale del PD, Micaela Fanelli. Adesso, futuro Molise, il quotidiano telematico. Vediamo Isernia, scuola di formazione continua in medicina di Università Gea Medica Unite per lo studio e la cura delle malattie rare. La cronaca, il Molise del dissesto, travolto da un fronte franoso, un distributore di benzina sulla provinciale per Casa Calenda. Dai Isernia, i carabinieri incontrano gli anziani della comunità di Sant'Egidio per metterli in guardia contro il pericolo delle truffe. Presente anche il vescovo Cibotti. La rubrica editoriale, nel Molise, 500 aziende edili saltate in aria dal 2013. Il governo frattura, sfigato o colpevole, si chiede appunto il giornale telematico. Vediamo qualche altra notizia. Siamo a Termoli, studenti della scuola primaria intervistano il sindaco Angelo Sbrocca per scrivere la sua biografia. In basso per la politica, ospedali pubblici, regionali, scarabeudici e il Consiglio di Stato boccia frattura, ma non si può fare di tutta tutta erba un fascio, rimarco la differenza. A proposito di sanità, c'è un intervento di sinistra italiana, bisogna battersi a livello nazionale per garantire ai molisani gli stessi diritti di altri territori. Politica, caso Stadio Roma sui principali quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera che apre proprio con questo titolo. Raggi sì allo Stadio di Mezzato. La sindaca rinvia per un malore e poi chiude l'accordo per la Roma. Ma il nodo delle autorizzazioni. Intanto leggiamo primarie del PD il 30 aprile. Fassino esclude il voto a giugno. Mattarella dice serve stabilità. Foto, grande foto di Trump. Vediamo perché. Porte chiuse a New York Times e CNN. Alcune testate fuori dunque dal briefing. Adesso andiamo a vedere Repubblica che apre con una notizia che fa riflettere, almeno per chi non ha lavoro e chi lo sta perdendo. L'ospedale degli assenteisti al tennis o a fare lo chef. Siamo a Napoli, ci sono stati 55 arresti. Parla il procuratore. Adesso li obblighiamo a lavorare. Anche qui di spalla, grande foto, Trump, guerra totale alla stampa, la Casa Bianca, caccia CNN e New York Times. La stampa quotidiano di Torino. La sfida del Movimento 5 Stelle. Abboliamo i vitalizi dei parlamentari. PD intanto primarie il 30 aprile. Voto più lontano. Stadio della Roma, si legge ancora nel sommario. Sì, ma senza le tre torri. C'è un'intervista al grande imamma del Cairo. Dice, dialogo con il Papa sui nostri giovani. Il vero Islam contro il terrore. Il fatto quotidiano. Apertura su Tutto in famiglia. Scrive Pizzini di Romeo. Soldi a Papa Renzi. E incontro con L. Che per i PM era Luca Lotti. Le carte del caso Consip. A centro pagina, matrice, l'impresario che deve ricostruire è indagato per i crolli. Disastro colposo, omicidio colposo e truffa. I primi 15 tra cui il Vescovo nel Mirino. Chiudiamo anche il fatto quotidiano. Siamo su Libero. Il bivacco devolta a Gabbana. Parlamento allo sbando. I nostri politici battono il record di cambi di casacca. 268 parlamentari sono passati da un partito all'altro. Presto si aggiungeranno gli scissionisti del PD. Tutto per avere più soldi e poltrone. E tra un po' sarà peggio. A centro pagina leggiamo l'ospedale degli orrori. Morti, sospette, personale a spasso. Arrestati 55 assenteisti in una struttura napoletana. Da Libero al sole 24 ore in alto e in apertura. Intesa boccia il dossier generali. Il passo indietro dopo una verifica sulla compagnia assicurativa. Durata un mese la banca va avanti con il piano di crescita. Raggi Stadium titola il quotidiano romano il tempo. Lo stadio dunque si farà. Dal malore al trionfo la sindaca vince la partita. Metà cubature soddisfatti tifosi e base grillina. E ora la Lazio spera. Unico sconfessato Beppe Grillo che giurava mai a Tor di Valle. Perché lo stadio potrebbe affondare. Sulla sinistra il 30 aprile le primarie del PD. Non si vota più. Renzi si rassegna. Addio urne a giugno. Chiudiamo il tempo. Andiamo sul quotidiano dei Vescovi. Avvenire la guerra dell'acqua da spegnere subito. L'allarme del Papa. Un diritto che a tanti è negato. Francesco ricorda che ogni giorno mille bambini muoiono per la scarsità idrica. Oggi rischiamo un terzo conflitto mondiale. Da avvenire adesso al manifesto testata calda. C'è la foto di Trump. Agli Stati Uniti la supremazia delle testate atomiche. Una frase virgolettata. Ora è lui ad avere la nuclear football. La valigetta con cui si può scatenare una guerra nucleare. Intanto Mosca dice è la rottura del trattato di non proliferazione. Dal manifesto al mattino quotidiano di Napoli. Chiaramente questa notizia in evidenza. All'ospedale degli assenteisti. Siamo a Loreto Mare dove ci sono stati 55 arresti. Un medico a giocare a tennis. Altri in clinica. Migliaia di assenze durante l'orario di lavoro. Ci sono in totale 94 indagati. Addetti al centro controlli. Timbravano per tutti. Dal mattino alla verità. L'eutanasia è già qui. Vediamo un po' questo titolo. Abbiamo comprato un suicidio. 400 euro. Da lunedì la Camera dunque comincia la discussione sulle date. Disposizioni anticipate di trattamento. Ma intanto chiunque può uccidersi a casa propria con il pentobarbital sodico. Ordinato su web. Adesso andiamo sul secolo d'Italia. Qui c'è Malore Capitale. La foto della sindaca Virginia Raggi. Perché ieri mattina si è sentita male. Ma intanto ieri pomeriggio è andata alla riunione per quanto riguarda lo stadio. Notizia in primo piano. Errani ritratta, si difende. Dice Sisma ho lavorato bene. Uno sguardo al mondo dello sport. Sulla Gazzetta. C'è in alto la Ferrari. È stata presentata ieri la nuova Ferrari. Rischia tutto. La nuova SF70H. Questa si chiama così. Questa è la sigla. Subito in pista con Vettel e Raikkonen. È l'antitesi della Mercedes. La nostra forza è stato detto nella velocità degli sviluppi. Poi grande foto e titolo in evidenza. Guanto di sfida. Andanovic attenta a Roma. Dice la Champions. La vogliamo noi. Andiamo in casa Juve. Che gioca con l'Empoli. Allegri la vicenda Allegri Bonucci. Adesso si riparte dunque tutto risolto. Bene. Come sempre con lo sport. Terminiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Un buon fine settimana. E vi ricordo alle 14. Il TG. Arrivederci. Grazie per averci seguito.